bentornati in questo video tutto tech ragazzi stavo pensando avete già fatto tutti i regali beati voi io no allora può capitare il regalo dell'ultimo minuto cosa regalo cosa faccio quanto devo spendere i budget che sembra che non bastino mai stavo pensando perché non suggerire qualche oggetto naturalmente inerente alla domatica di casa sotto i 20 euro sono sempre quei regali che possono essere utili anche per l'ultimo secondo arriva l'amico che non pensavi ti facesse regalo e tac te lo spara lì cosa fai stai lì imbabolato andiamo a vederli insieme dai vediamo qualche oggettino sotto i 20 euro vi giuro sotto i 20 euro così perlomeno potete vedere se già regalarlo a qualcuno possa magari tenerlo lì di scorta o magari vi serve a voi dai non perdiamo tempo andiamo a vedere partiamo con ecopop l'altoparlante con dimensioni molto ridotte ma con una buona potenza audio e che naturalmente può servire per tutta la domotica di casa ad un prezzo di 19 euro e 99 andiamo poi sulle telecamere di videosorveglianza io vi consiglio la tapo la c200 ad un prezzo sempre di 19 euro e 99 andiamo sempre su un'altra telecamera di videosorveglianza ma questa è fissa quindi la potete mettere in casa e non si può muovere quindi all'ottica fissa mentre invece quella di prima della tapo alla possibilità di essere ruotata ma comunque questa è un'ottima telecamera la blink mini 2 prezzo 19 euro 99 se poi volete cominciare subito a utilizzare la domotica di casa magari siete dei neofiti nel campo vi consiglio come ho detto più volte nei video le prese smart in questo caso vi consiglio una tapo p 105 prezzo 9 euro e 49 una coppia di prese della meros in questo caso altra marca davvero eccezionale per quanto riguarda le prese smart abbiamo due prese con con connessione italiana due prese 19 euro 19 oppure c'è la possibilità di acquistare anche un pezzo quindi una presa 11 euro 89 oppure tre prese a 27 euro 99 ve le lascerò comunque tutte quante qui sotto in descrizione e perché non parlare di una bella striscia led della guvi ottima marca fa degli ottimi prodotti semplici da installare striscia da cinque metri naturalmente può essere dimmerata poi cambiare colore effetti eccetera eccetera 19 euro 99 questi erano i prodotti che ho pensato di potervi proporre e che secondo me comunque poca spesa tanta resa soprattutto con i tempi che corrono avere sotto controllo sempre la casa o comunque avere la possibilità di accendere e spegnere le luci anche in remoto magari quando non siete in casa o naturalmente video sorvegliarla o renderla un po più bella con qualche striscia led non è male quindi se vi interessano questi prodotti vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter effettuare direttamente l'acquisto e io direi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao